Siamo con Donatella Perrella del Cipo Molise. Donatella, parlaci un po' del progetto di oggi. Sì, ci è arrivata una richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo di Campomarino che i ragazzi appunto hanno dall'inizio dell'anno svolto uno studio, un approfondimento sulle Paralimpiadi per cui ci hanno chiesto di poter assistere a una dimostrazione pratica, avere delle notizie più approfondite riguardo alle Paralimpiadi. Quindi abbiamo organizzato questa giornata presso l'Istituto, saranno presenti le classi quarte e le classi quinte e parleremo appunto dello sport paralimpico, dei nostri atleti e delle Paralimpiadi. Poi ci sarà una dimostrazione della squadra di basket di pallacanestro in carrozzina, la FLEI Sport, che è intervenuta in massa, ci sono tutti, c'è tutta la squadra e faranno una dimostrazione di come si svolge appunto una partita di pallacanestro in carrozzina, spiegheranno i fondamentali e soprattutto coinvolgeranno i ragazzi. Faranno provare ai bambini come è difficile poter gestire il pallone, pensare di fare canestro, muovere la carrozzina, difendersi dagli avversari, cioè una coordinazione richiede una coordinazione incredibile e anche una particolare rapidità dei movimenti.